Un caro saluto da Francesco Samani e all'inizio di questa diretta ringraziamo tutti coloro che sostengono il canale Viral Top Italia, unico come sempre, a domani. Domani ci sarà una diretta con Viral Top Italia, è un gruppo di persone colte che si stanno a loro volta preparando il concorso. Giovanni Rea, grazie mille prof, molto interessante, oleoleo, ottimo video, complimenti. Floriana Farano, la ringraziamo tanto, scrive, sei fantastico, grazie come sempre, il tuo aiuto è costante, scuola, cultura, sei sempre estremamente gentile ed umile. Grazie, grazie, grazie. Ah, c'è De Professor, ti ringrazio enormemente, è molto bello il fatto che condividi la cultura, la scuola, bel video che si aggiunge numerosi video di qualità, grazie mille, il video è molto chiaro ed aiuta a trovare un collegamento rapido tra la domanda e la soluzione, continua così, sei tanto bravo, Paola Prosperi, grazie tanto, bravissimo. Io ringrazio tanto voi, a nome di tutti, perché se i video ci sono è anche merito vostro. Allora, oggi continuiamo a dare qualche indicazione per prepararsi al concorso ordinario docenti 2020-2021 e in questo caso voglio dire qualcosa di estremamente semplice che potete memorizzare perché abbiamo già visto che in diverse dirette, in diverse lezioni, potevano essere utili le potenze. Allora, a questo punto scriviamo le potenze del 2. Allora, 2 alla 0, qualsiasi numero alla 0 è 1, però casomai usiamo poi due colori che è anche più divertente, 2 alla prima, 2 alla seconda, 2 alla terza, 2 alla quarta, 2 alla quinta. Nell'esercizio ci veniva chiesto qualcosa di 2 alla sesta, 2 alla settima, 2 all'ottava. Andiamo a mettere, non in rosso perché sembra un errore, cambio colore, speriamo non sia troppo scuro. Qualsiasi numero elevato alla 0 è 1, 2 elevato alla 1 è il numero stesso, 2 elevato alla seconda significa 2 moltiplicato per se stesso due volte, quindi significa 2 per 2 che è 4, 2 per 2 per 2 è 8, 2 per 2 è 4, per 2 è 8, per 2 è 16. Ricordo il significato dell'esponente è che c'è un prodotto del numero, in questo caso il 2, che avviene tante volte quanto il numero dell'esponente, 2 alla quinta, così via. Un'altra cosa interessante, basta prendere il precedente e moltiplicarlo di nuovo per 2, perché se 2 alla quarta è 16, 2 alla quinta sarà anche 16 per 2, quindi potete anche farlo derivare dal calcolo precedentemente fatto, quindi 32, 64, 128, 256. Per gli informatici, 2 all'ottava è molto importante perché in un dato, in un byte, ci sono appunto poi le 256 informazioni. Adesso passiamo alle potenze del 3. Io credo che, allora vedrete, per le potenze del 3, 3 all'ottava non ve lo chiedono, io questi numeri li ricordo perché ho a che fare spesso i numeri, però 3 all'ottava fa 6561, non ve lo chiederanno. Allora può uscire 3 alla 0, 3 alla prima, 3 alla seconda, 3 alla terza, 3 alla quarta, 3 alla quinta e 3 alla sesta è già abbondante. Ci fermiamo a 3 alla sesta. E quindi 3 alla 0, qualsiasi numero elevato alla 0 è 1, 3 alla prima è il numero stesso, 3 per 3 fa 9, per 3 27, per 3 81, moltiplicandolo per 4 volte, 81 poi per 3, 243 e 729. Andiamo avanti con le potenze del 4. Quindi è un sussidio, è un aiuto, è uno strumento per velocizzare l'esecuzione degli esercizi relativi alla prova preselettiva. Anche perché una calcolatrice non ce l'avrete, io lo dico soprattutto a quei docenti che hanno maggiore difficoltà di calcolo e quindi magari preferiscono aggrapparsi o comunque far leva sulle capacità mnemoniche. Ognuno di voi dovrà avere un metodo di studio diverso, inerente e contestuale alle proprie abilità, alle proprie capacità. Non sforzatevi di fare quello che magari al collega riesce meglio e a voi non riesce, perché noi siamo unici e quindi anche nello studio seguiamo essenzialmente le nostre capacità. E infatti in tutti i video voi vedrete che ci sono sempre delle proposte differenti per le differenti richieste che mi vengono fatte, perché giustamente ognuno di voi mi fa sempre una domanda diversa dall'altra, anche se sono simili. Vediamo il 4 alla 0, 4 alla prima, 4 alla seconda, 4 alla terza, 4 alla quarta, 4 alla quinta può bastare. Perché non ci chiederanno di più. Quindi un numero elevato alla 0 è 1, 4 alla prima è sempre 4, 4 per 4 è 16, per 4 è 64, per 4 è 256, per 4 è 1024. Da notare solo è divertente l'analogia, no? Vedete qua c'è 1, 1, perché 2 per 2 fa 4, quindi poi ci avremo 4, poi ci avremo il 16, poi ci avremo il 64, poi il 256. Quindi basta saltare, cioè il 4 alla fine è 2 alla seconda, quindi basta fare 1 sì, 1 no, e già qui ci abbiamo le potenze del 4. 1, 4, 16, 64, 256. Se volete ve lo dimostro, è un qualcosa in più. Se io vi chiedo 4 alla quarta che fa 256, 4 alla quarta, ma 4, essenzialmente questo 4 è 2 alla seconda, e poi ci abbiamo ancora questo 4 qui. Quindi 2 alla seconda per 4, quindi è come dire 2 all'ottava che fa 256. Eccolo qui, quindi il 2 all'ottava fa 256, come il 4 alla quarta fa 256. Quindi in realtà poi il 2, il 4 e l'8 si derivano, sono intrinsicamente connessi e quindi tutto poi deriva dal 2, come il 5 col 25, come il 3 col 9. Andiamo avanti con le potenze del 5. Allora, 5 alla 0, 5 alla prima, 5 alla seconda, 5 alla terza, 5 alla quarta, arriviamo a 5 alla quinta, più di questo non vi chiederanno. Allora, qualsiasi numero elevato alla 0 è 1, qualsiasi numero elevato alla prima, è se stesso, 5 per 5, 25, 5 alla terza, significa 5 per 5, 25 per 5, 125, 625, 3125. Bene, abbiamo riempito la nostra pagina virtuale, la nostra lavagna virtuale, con questo io ringrazio ancora tutti coloro che sono presenti e che lo dimostrano quotidianamente, ringrazio coloro che si stanno iscrivendo, coloro che stanno aiutando il canale e ringrazio coloro che mi mandano messaggi davvero belli. Vi auguro una, anche perché adesso stanno cominciando ad uscire le prime date, vi auguro una buona continuazione di studio, un'ottima preparazione, perché poi il massimo è quello che potete raggiungere per voi stessi. Cioè, io lo aiuto assolutamente, lo do, le mie conoscenze, le mie esperienze le condivido, poi ovviamente la gran parte del lavoro va fatto anche di comune accorto. Cioè, voi siete i protagonisti di questa esperienza, di questo cammino e molto dipende da voi, è in minima parte anche dalla connessione. Allora, un augurio di buona riuscita per tutto quello che state facendo e per quello che vi prestate a fare. Un caro saluto da Francesco Samani. Allora, un augurio di buona riuscita per tutto quello che vi facendo.